I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I am a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rapping Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Oggi siamo qui perché voglio fare una piccola reaction su questi fail del 2018 appunto Dato che tra poco il 2018 sarà sorpassato dal 2019 perché non fare una reaction Mi raccomando di lasciare like e condividere questo video con i vostri amici per farli vedere e farli ridere con noi E andiamo direttamente al video, vediamo cosa succederà Oddio È pazzo sto bambino, ma che avete visto che ha fatto? Porco 2 Questo? Oddio mio Oh mio dio, regà, ma che ha combinato? No, vabbè E questo? No, vabbè, regà Gli si rompe il coso di dietro No, vabbè Oddio Dai, ma si può? Che sa fa' questo? Oddio mio Un pazzo Comunque ragazzi vi lascerò il link di questo canale C'è il link di questo video direttamente Giù in descrizione Tanto comunque anche per Prevenienza, no? Anche per rispetto della persona che ha fatto questi fail Vediamo Continuiamo Due bambini Che sa fa' No, vabbè Un'altra volta il cane Si è fissato Dai, ma che schifo Che sa fa' questo? Con l'aquilone No, vabbè Oddio No, vabbè, regà Ma che figata sta roba Che cacchio Ah, vabbè, tipo un robot costruito Oddio 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 No, vabbè, regà Sto spicciando la vita No, vabbè No, vabbè Mi chiedo Soprigliare la pallina Oddio Questa che fa? No, vabbè Si è fatto malissimo Ma che cazzo Ma cosa c'era un topo? Non lo so Ma che cos'era? No, vabbè, regà Se mi fa tipo Boh Non me ne so Ancora questo No, vabbè Oddio 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 Ma che cacchio Minchia però Se cade lì indietro Regà Un dolore È caduto davvero Ma che cacchio Oddio 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 No, vabbè, regà Ma Cioè, dai Guarda il cane che lo leggo Che schifo Oddio Che cacchio sono quelle robe Uccelli No, vabbè, regà Mamma mia Oddio No, vabbè mamma mia no vabbè ragazzi stavo morì ma io dico ma la gente ma è stupida cioè ma dai ma si può oh eh ai 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 madonna meno male che non l'ha preso là sotto ragazzi no era un delirio rip oh oddio aia due cani no vabbè no vabbè lol ho preso la finestra no vabbè regà mi ha preso la finestra ripete mamma mia mentre qua ci stanno i tuoni raga oddio 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 che sta facendo questa raga pooh ah 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 aia che dolore madonna mia ma io non lo farò mai una cosa del genere raga manco se mi pagano oro oddio oddio no vabbè regà mia 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 ha distrutta la roba questo che fa no vabbè se gli sono rotti i jeans di dietro eh questo questo che fa oddio oddio mio santo ma l'avete visto regà che assurdità ma come cacchia oddio questo è cadere l'acqua immagino beh non c'è niente da ridermi di questo qua è stupido e basta non è che ci può qualcosa ma che oddio è una donna si ok è una donna oio la testa ma sei stupida questo che fa no vabbè no vabbè ma sei stupido ma proprio stupido un altro stupido guarda guarda ecco ecco un altro stupido ecco oddio 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 a fuoco ma vabbè ma raga ma se gente è stupida oddio oddio no questo fa malissimo regà fa malissimo questa che fa esorcista questo fa malissimo ma ci può essere questa gente stupida ma si può ecco i mezzo oddio mio oddio mio oh mio dio oddio regà 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 c'è aioi no vabbè regà no vabbè aio madoma io dico ma come cacchio faccia lol lol no vabbè regà fighissimo ok questo no pazzo quanto manca ancora un po' no vabbè ma ripete proprio ripete e ripete per la bambina ma anche per questo ripete lo sa no vabbè regà oddio mio un altro oddio oddio mio santo oddio ma la gente ma che cazzo oh c'è jayden dei mates stupido andiamo aiaiaiaiaiai regà mamma mia che dolore lo sento io no vabbè regà ma che salto ha fatto questo questo si fa malissimo no vabbè regà ma la gente è proprio stupida dolore 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 ecco manco ho già pieno oddio questo si fa male con quelle cose no vabbè ha rotto la luce che sta a fare questo oddio mio santo oddio lol no vabbè regà no 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 questa che sta a fa oddio mio santo questa che fa reggaonball lol oh guarda che buona questa oppa oddio 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 no vabbè oddio 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 mio Impieno proprio Oddio mio Che sta a fare questo Oddio Oddio No vabbè regà mamma mia E' morta proprio No vabbè la macchina No regà Che ha fatto una macchina D'andare Vabbè Come lavare una macchina LOL Vabbè Come distruggersi in qualunque modo Però dettagli No vabbè la cala Poi la videocamera Questo che cosa sta a fare Oddio Aia La bambina No vabbè La polizia quindi Oddio ho paura di cosa si potrebbe No vabbè ma che cosa sto facendo WTF Vabbè Oddio Questo Oddio 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 mio Oddio 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 Mamma mia il dolore Il dolore Vabbè Vabbè Il dolore mamma mia No con la bicicletta lì siete pazzi No 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 È normale che cadete tutti stupidi Mamma mia Ma come si fa ad essere così intelligenti Dove Caccio del delore Aia Aia Oddio Mio Assurda come cosa Questa che sta a fa? Ma è stupido Perché non ha saltato Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando se volete Altri video reaction Di appunto Questi fail Automaticamente dobbiamo arrivare a 150 like A 150 like vi porterò un prossimo video Di altri nuovi fail Vi ringrazio a tutti per la visione Mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanella E supportatevi con una piccola condivisione del video Bella ragazzi Alla prossima Ciao Ciao